Perché nessuno è mai riuscito a superare la prima stagione di True Detective? Neanche True Detective stesso! È la storia di questi due detective molto diversi tra di loro, che hanno a che fare con questo caso di omicidi, culti esoterici e cospirazioni. Proprio in questi giorni, tra l'altro, sta uscendo la quarta stagione, con Jodie Foster. Le recensioni sembrano buone, ma non tanto quanto la prima. La verità è che alcune cose succedono una volta sola. La prima stagione aveva Nick Pizzolatto, lo showrunner, e Carrie Fukunaga, il regista, due personalità creative molto forti tra di loro, e, stando a molte fonti, spessissimo si scontravano. E paradossalmente forse è stato proprio questo scontro-incontro a portare fuori il meglio da partì di entrambi. Infatti, dalla prima stagione ricordiamo molto sia la scrittura che la regia. Invece, dalla seconda stagione, Pizzolatto, lo showrunner, è iniziato ad avere molto più controllo creativo. E questo ha portato a delle storie inevitabilmente più noiose, senza mordente, senza più cazzimma. A volte succede semplicemente così. L'incontro tra i creativi giusti al momento giusto, sul progetto giusto, è impossibile da replicare. E tu che ne pensi? Fammelo sapere nei commenti.